Sono passati 45 giorni dal momento in cui il Barletta ha concluso il suo campionato nella semifinale playoff contro il Corato. Dopo un mese e mezzo di naturale assestamento, i biancorossi sono tornati a programmare la nuova stagione, la settima consecutiva in eccellenza. L'obiettivo non cambia e a dimostrarlo c'è la riconferma di Francesco Farina. Il tecnico casertano guiderà il Barletta anche nell'anno del centenario per chiudere un cerchio, aperto un anno fa con il suo approdo in città. Il primo tentativo non è andato nel migliore dei modi, adesso non si può più sbagliare. La società nei giorni scorsi ha anche ampliato il suo pacchetto dirigenziale con l'ingresso di Beppe Iannone nel ruolo di direttore generale. Un passo in avanti anche a livello finanziario, in attesa di conoscere le reali tempistiche dello stadio Puttilli. L'impianto di Via Vittorio Veneto infatti sarà inutilizzabile almeno fino a dicembre, se non addirittura fino alla scadenza contrattuale dei lavori fissata per il 13 gennaio 2022. Un handicap che si abbatte sul Barletta da oltre sei anni e che di fatto ne limita entrate e ambizioni. Con l'arrivo di Farina si comincia a pensare al calciomercato, che vede ancora ferme praticamente tutte le squadre di eccellenza. In cima alla lista c'è una riconferma, quella di Capitano Massimo Polidori, che aprirà ufficialmente la sessione estiva dei Biancorossi. Sessione estiva che invece è bloccata per ovvi motivi in casa Brindisi. I messapici, retrocessi della Serie D, potrebbero tornare in quarta serie attraverso la domanda di riammissione già presentata nei giorni scorsi. È il primo segnale forte della dirigenza guidata da Rigliano, dopo aver scelto Chianese come nuovo allenatore. Il Brindisi stando ai punteggi alle graduatorie dopo le scadenze dei termini. È al quinto posto dopo Borgosesi, Attrizium, Nola e Vado. Le possibilità di un ritorno in Serie D dalla posta di servizio quindi sono decisamente concrete.